Weee! Non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIODERONE! DAIE! Weee! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIODER e ragazzi che giornata oggi! 4 luglio, una giornata importantissima ovviamente per l'indipendenza americana talmente importante... ...finito la A di importante, talmente importante da regalare delle skin dedicate. È stato così l'anno scorso, molto probabilmente è così anche oggi. Vi ricordo che questo video è registrato qualche ora prima del 4 luglio. Ci sono delle novità incredibili trovate nei file di gioco che riguardano oltre al 4 luglio anche ovviamente l'evento di Stranger Things. Ci sono due eventi importantissimi su Fortnite che si stanno verificando contemporaneamente. L'evento di Stranger Things e l'evento del Dogus. La domanda è... Non è che queste due cose in qualche modo possano essere... Possano intersecarsi? Ho delle cose da farvi vedere e da farvi sentire davvero super interessanti. E se avremo tempo ragazzi, nel video di oggi vi voglio mostrare anche un gameplay nuovissimo della nuova Airstrike Grenade. La granata aerea che arriverà molto probabilmente nella settimana numero 10. Quindi ancora una manciata di giorni. Prima però volevo ringraziare tutti coloro che supportano il mio channel utilizzando il codice creator. Xiodarone. Grazie di cuore ragazzi per scioppazzare di prepotenza con il mio codice. Mi raccomando iscrivetevi in tantissimi e soprattutto... Attivate la campanella per non perdere. Nessuna notifica sui miei video e sulle mie live. Ma prima... Dai. Dai raga la domandina ve la devo fare. Ve la faccio sempre. Mi rispondete sempre in tantissimi ragazzi. E anche oggi domanda molto molto personale. Qual è la tua città preferita? Così proprio secco. Secco. Vale anche il quartiere eh ragazzi. Qual è la tua città preferita attuale di Fortnite? Quindi della season 9. Io sono nostalgico. La mia ragazzi è Landine. Lande è in the heart. C'è sempre stata. Ci sarà sempre. Me lo auguro. Lande nel cuore. Tutta la vita. Ditemi qual è la vostra preferita. Qua sotto. Nei commenti. Ma quindi. Ciancio le bande. E bando alle ciance. Andiamo subito subito. A vedere ragazzi. Il primo argomento di oggi. Che è. Nient'altro. Che il portale. Ma. Nella versione. Interna del gioco. Questo ragazzi. È. Il portale. Che tutti abbiamo visto. E che adesso vi farò sentire. Un po' più nel dettaglio. Come invece. Si presenta. Nei codici. Sorgenti. Di Fortnite. Ovviamente. Tutti. Abbiamo visto questa cosa meravigliosa. Da una parte. Meravigliosa. Perché. È pazzesca. Più di una in realtà. Dovrebbero essere. Quattro. Se non ricordo male. Sparsi. Principalmente. Ai grandi magazzini. Grandi magazzini. Che sono proprio il teatro. Dell'evento. Anche nella serie tv. Di Stranger Things. Perché c'è la gelateria. E ancori qualcosa. Che è presente. Ve l'avevo già fatto vedere. In qualche video fa. Ragazzi. Ci sono. Degli elementi. Che vanno. A combaciare. Con quello che è la serie tv. E tra l'altro ragazzi. Andiamo a sentire. Un pochettino più da vicino. I suoni che. Emettono questi portali. Sono notevolmente. Sono notevolmente mostruosi. Raga. Senti che roba. Magari non vi eravate soffermati. A sentire questo suono in game. Not bad. Direi assolutamente not bad ragazzi. Portali che sicuramente. Come saprete. Possono essere utilizzati. Anche per passare. Da una parte all'altra. Di un determinato punto della mappa. Quindi sono proprio. Dei portali. Che teletrasportano. Il giocatore. Da una parte all'altra. Ma se è vero ragazzi. Che i portali sono arrivati. Nella modalità battle royale. Relativi a Stranger Things. E' anche vero. Che nei codici sorgenti. Sono presenti. Presenti. Due skin. E anche. C'è da dire. Che oggi 4 luglio. E' la data di uscita. Ufficiale. Di Stranger Things 3. Quindi la terza stagione. Come ci dicono. Come ci. Oggi sono dislessico. Come ci dicono. Direttamente. Dalla pagina. Twitter. Ufficiale. But I'll see you tomorrow. All right. Questo è un post. Di ieri. Over and out. Quindi sopra e fuori. In poche parole. Disponibile. Da oggi. La terza season. Di Stranger Things. Nelle. Nei codici sorgenti. Però ragazzi. Arriva intanto. Un tweet. Che ci dice. Ci sono. 12. Pack. Criptati. In fortnite. Che ovviamente. Non sono ancora riusciti. A decriptare. I leakers. 6 di questi 12 pacchi. Sono relativi. Alle varie fasi. Del robot. Quindi vedremo. Pian piano. Costruirsi. Il robot. 4. Sono per i nuovi cosmetici. Quindi. Le skin. I deltaplani. I picconi. E 2. Sono invece. Relativi a. Stranger Things. X fortnite. Objects. Non dice skin. Dice. Objects. Però potrebbero anche essere. Delle skin. Perché sappiamo. Che se andiamo a dare un'occhiata. Nei codici sorgenti. Quello che vi ho evidenziato. In arancione. È la skin. Sheriff Hooper. Che non vuol dire altro. Che. Sheriff Hooper. Uno dei personaggi. Principali. Della saga. E non è l'unico personaggio. Che è stato trovato. Nei codici sorgenti. Ma c'è anche. Demon. Godemo. Gorgon. Che è proprio. L'essenza. Del male. Di questa serie. Che in questa foto. Vediamo. In tutto il suo splendore. Ragazzi. Quindi. Due nuove skin. Relative. Molto probabilmente. A Stranger Things. In arrivo. O. Speriamo. In realtà. Arrivate oggi. E per terminare. Ragazzi. Un'immagine davvero. Incredibile. Questo è il trailer. Ufficiale. Di Netflix. Di Stranger Things 3. Ragazzi. Quest'impronta. È molto. Molto. Simile. Alle impronte. Che ci sono. Nella mappa. Potrebbe essere. Un caso. Però. Come vi anticipavo. All'inizio del video. Se ci fosse. Un collegamento. Tra Stranger Things. E l'evento. Di Cactus. Di Dogus. Questa. È davvero. Interessante. Come immagine. Ovviamente. Staremo a vedere. Quando ne sapremo. Un pochettino di più. E non partono mai gli slide. Non partono gli slide. Allora. Senza slide ragazzi. Eccolo qua. È facile cliccare i tasti quelli giusti. Andiamo avanti ragazzi. Ed eccoci qua invece. Vi ricordo che l'anno scorso. Per il 4 luglio. Uscirono. Delle. Degli stili personalizzati. Per determinate skin. Tra cui. In questo momento. Risalta. Nettamente. Il nostro. Team leader. Il Cuddle Team Reader. Ma vi ricordo anche. Che l'anno scorso. Fu spoilerata. Una scia. Che non è mai. Stata. Portata. Pubblica. Questa ragazzi. È relativa. Al luglio. 2018. E come vedete ragazzi. È una scia. Con i colori americani. E le stelline. Quindi è molto probabile. Che. Potrebbe essere. Rilasciata. Oggi. Per il 4 luglio. Tanta tanta roba. Molto particolare. E sicuramente. Un fatto curioso. Perché. Non è mai. Stata. Resa. Pubblica. E proseguiamo. Con un altro. Argomento. Ragazzi. Come vi anticipavo. La nuova. Ice Strike. Greenade. Quindi. La granata. Aerea. Che sarà. Disponibile. Come vi dicevo. Dalla settimana. Numero 10. O dopo. Ma credo. In realtà. Nella 10. Non sappiamo ancora. I danni. Gli effetti. Ma vi faccio vedere. Ragazzi. In game. La granata. Intanto abbiamo perso. Il game. In game. La granata. Ragazzi. Eccola qua. Quindi. Delle stesse dimensioni. Di una granata normale. Classica. Con il colore verde. E il logo. Della bomba nucleare. Disegnato sul corpo. Principale. Della granata. Qua mi fa pensare. Che potendola tenere in mano. Io non saprei dirvi. Che effetto fa. Secondo voi. Che effetto può fare. Una airstrike grenade. Non può richiamarmi. Un ride aereo. Nel senso. Sarebbe folle. Come cosa. Da pensare. Alle dimensioni. Della granata normale. Probabilmente. Un oggetto da lancio. E che non si riesce a capire. O meglio. Ancora. Non si sa. Quale sia. L'effettivo danno. Che vuole. E che provocherà. Questa granata. Ragazzi. Io per oggi. Vi ringrazio. Tantissimo. Per avere guardato. Questo video. Spero che vi sia piaciuto. Mi raccomando. Un bel pollicione in su. Iscrivetevi al canale. Noi. Ci vediamo alle 8. In live. Ciao.